Allora, hai pensato a qualcosa di particolare per la decorazione e l'atmosfera? Ecco, ho pensato che potremmo partire da un tema tipo Gatsby, gli anni venti. Potrebbe essere davvero carino. Figuratevi che i miei genitori sono proprietari della casa di mia nonna e l'arrendimento d'epoca è rimasto intatto. Potrei darvi tutto in presto, corrisponde esattamente al tema. Ve li porto qui nel fine settimana. Nina è entrata senza aspettare di essere invitata. Hanno portato dentro delle lampade con le frange, delle poltrone di velluto nere e dorate, un gramofono scintillante posato su un tavolino d'epoca. C'era persino del vasellame, delle plafoniere e delle decorazioni per i tavoli. Aiutati da Nina, abbiamo spostato i mobili e in poche ore il posto era trasformato. Il fine settimana è passato ad una velocità pazzesca. Ho bisogno di riposo. Ok, devo andare a prendere una boccata d'aria prima di dormire, se no non riuscirò mai ad addormentarmi. Ciao. Oh, ciao Castiel. Mi sembra che tu stia molto meglio. Non ci siamo più rivisti dopo la storia di Bella Addormentata nel Bosco. Di che cosa? Le battute ti vengono di merda, è un tazzo il soppio. Una bella addormentata nel bosco che sviene a causa dello stress in piena lezione di sviluppo personale. Non sono sicura che la storia sia così nella fiaba. Oh, ma nella fiaba infatti è macabra e inquietante, quindi è meglio. Esatto. E che vuol dire? Che non sono il principe che aspettavi? No, perché aspettavo una principessa. Io non ho detto questo, ecco. Non ho parlato del principe. Diciamo che è raro vedere una principessa addormentata strappare la maglietta del suo salvatore e sbavare sul pavimento della biblioteca. Ma vabbè. Vedo che ho saputo continuare ad apparire al mio meglio. Quindi con la bava alla bocca stesa per terra, tipo dopo un attacco epilettico. Esatto. Sei uscito da lezione? Che domanda intelligente. Sì, aspetto gli altri membri dei Crowstorm. Abbiamo una ripetizione stasera. Si chiamano prove. Prove, non ripetizioni. Prove. Dimmi, saresti libero domani sera? C'è una serata e... Che tipo di serata? Una serata seria, cioè per chi mi hai preso. È una serata per l'università. Cercano dei donatori per il Dipartimento di Storia dell'Arte. Sono io che mi occupo dell'organizzazione. Perché dovrei venire a questo tipo di serate? Beh, preferirei essere accompagnata. Allora, te lo propongo. È un appuntamento romantico? Perché no? Perché ci saremo parlati in tutto e per tutto cinque volte da quando sei tornata in città. E allora? Non ci sono regole per invitare qualcuno ad uscire, mi sembra. È vero. Vedrò. Se per caso non ho niente da fare, magari vengo. Oh, ok. Allora. Ho rovestato in borsa. Tieni, ecco l'invito. Non si sa mai. Eh, già. Non si sa mai. Buona serata. Ma quindi ha frenzonato questo? Cioè, di bianchia su uscirlo ho detto sì, boh, forse dai. Esatto, sì. Ne conosco una che sarà contenta se Castiel venisse. Per quanto riguarda Ambra, non l'ho incontrata. E suo fratello nemmeno, adesso che ci penso. Da varie settimane. È come se fosse scomparso da quando è successo il fatto. Era l'ultima volta che lo vedevo. Mi sono spinta troppo oltre volendo sapere la verità. No, sono io la vittima nella storia. Dopotutto ho diritto di sapere cosa sia successo. Anche se cerco più di convincere me che altro. Ok, sono stanca di questa settimana. È ora di andare a dormire. Facciamola finita una volta per tutte con questa raccolta fondi. Cosa sono questi scleri all'improvviso dal nulla cosmico? È perché finalmente è stanca anche lei. Cioè, è uscita di senno. La nocciolina si è rotta di nuovo. Direzione letto. Ma è giorno. Cosa ci fai qui? È casa mia, genia. Che piacevole accoglienza. Non dovresti essere a controllare che tutto sia in ordine? Sì, ma sai come siamo fatte. La sala è pronta. Non sono io che mi occupo del catering e gli inviti sono stati distribuiti. Non vedo cosa potrei fare d'altro. Non capisci niente. È uscita sbattendo la porta. Questa ragazza mi fa diventare matta. No, sei tu che fai diventare matti gli altri. Quello sclerano su di te. Tu però non sapendo di essere matta pensi che gli altri siano matti. Ho messo il pigiama e mi sono rifugiata sotto le coperte un po' esasperata. Ho infilato gli auricolari nelle orecchie per tentare di calmarmi. Ero riuscita a gestire la situazione senza lasciarmi sopraffare dallo stress. Ed ecco che lei mi mette pressione. La sua carriera, i suoi studi e tutto quello che conta per lei. Gli altri non le importano. Poco a poco la musica mi ha calmata. Così. Prima stream, poi sono calma. Ti sento, hai sniffato coca nel mentre. La notte è stata agitata, piena di sogni angosciosi, nei quali la serata si rivelava un disastro terribile ed io ero espulso dall'università per sempre. Mi sono svegliata, poco riposata, ma decisa a ben gestire la serata. Ho voglia di affrontare le cose e di dimostrare a Yelin che sono capace di farlo. Seguirò il consiglio di Yun, ho bisogno di una tenuta. Adesso che ci penso, non ho mai visto delle tenute e dello stile che sto cercando nella boutique di Lai. Invece di perdere tempo, è meglio che vada da Rosa. Saprà orientarmi lei. La porta di ingresso del suo palazzo è aperta. Ho bussato alla sua porta e ho sentito dei passi che si avvicinavano. Ma che strano. Non pensavo che quando tu bussassi alle porte, poi la gente si avvicinava per aprirle. Oh, Erkel, stai bene? Sì, non ti disturbo? No, per niente. Va tutto bene? Volevi parlarmi? Beh, ecco... Sto cercando una tenuta speciale. Credo che tu potresti aiutarmi. Io? E chi altri, Rosa? Facevamo una spesa con te al liceo. No, più che altro. Sono in casa tua. Cosa sono venuta a chiedere aiuto? La tua poltrona? Strano, ma vero? Ma Erkel ce l'avevo a parlare con dei mobili. Sì, anch'io. Sì, mi serve una tenuta nello stile anni venti. Sei nel posto giusto. Mi piace rammendare tutti i tipi di costumi teatrali e ne ho alcuni in questo momento. Ma stavo per venderli in realtà. Ci sono già diverse persone interessate sul mio sito. Ma, un attimo, provali lo stesso. Se ce n'è uno che ti piace, te lo vende a un prezzo da amici. Perché sai, riparare i costumi di questo tipo è assai costoso. Tu mi spieghi perché sei andata a fare la psicologa, Rosa. Io voglio, davvero voglio che tu mi dai una risposta. Perché sei andata a fare psicologia? Grazie, Rosa. Ha tirato fuori una decina di tenute dall'armadio, accanto alla macchina da cucire. Wow, ne hai così tante. Ah, ha detto che ne erano solo due o tre. Da qualche anno ho il mio passatempo preferito. Lo faccio quando studio. Mi aiuta a rimanere concentrata. Mi spiego come fai a leggere gli appunti e se stai cucendo. Devi guardare quanto cuci, dove cuci. Su dai, provali tutte, fammi una sfilata. A proposito, perché ne hai bisogno? È per un progetto a lezione. Mentre provavo le tenute, le ho raccontato le avventure della settimana riguardanti l'organizzazione della serata. La nonna di Nina aveva questo tipo di arredi. Che fortuna! È anche per questo che abbiamo deciso di optare per questo tema. Non avevamo molta scelta. Dopo averle provate, ho selezionato varie tenute che mi piacevano. Ottima scelta. Allora, quale prendi? Non sono ancora sicura. C'è un lungo abito con il pizzo sulle spalle che mi attira particolarmente. Questa è perfetta! Stupenda! Farai colpo! Eh, sicuro! Grazie Rosa, è davvero perfetto l'abito. Bene, è quasi l'ora dei preparativi. Ma come quasi lo vuol dire? Ho dato un bacio a Rosa e mi sono diretta verso il bar. Ci sono ancora 52 vassoglie di dolci da tirare fuori. E tu cosa fai a piantateli? In mezzo alla sala? A mangiarti le unghie? Se per dare fastidio a quelli che lavorano puoi tornartene a casa. Forza? Su, 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 più veloci. Voglio darvi correre e darvi da fare. Di molluschi ne faccio meno io. Ai ai ai, i camerieri assunti per la serata sembrano terrorizzati. Buongiorno Clementina. Ah, davvero? Ti sembra proprio che sia buono questo giorno? Ci sono ancora un sacco di cose da preparare. No, ma guardali un po'. Sono incapace di far funzionare una macchinetta di caffè. È vero che non sembrano molto svegli. Ah, finalmente qualcosa su cui siamo d'accordo. Avete sentito cameriere i miei carrini? Imparate a sbriccarvela da soli. E credetemi, se è lei che ve lo dice, vuol dire che ne avete di strada da fare. Questo è il risulto. Quindi, noi abbiamo insultato i camerieri e lei gli rimanda insultato pure noi. Perfetto. Che significa questo? Una cameriera dietro il banco mi ha guardata male. E che fai? Gli hai dato della pirla. Salve, posso entrare? Ho una sorpresa. Wow, che tenuta. Sei stupenda. Oh, grazie. Mi sembra di vedere la nonna sulle foto di quando era giovane. Tieni, guarda. Ho trovato dei dischi in vinile per il grammofono. Credo che ti piaceranno. Cioè, quindi voi avete un grammofono ma non i dischi per il grammofono? Le copertine erano tutte rovinate. C'erano molti dischi di musica degli anni ruggenti. Jets, Dorsey, Crosby e altri cantanti dell'epoca. Fantastico, Nina. Grazie mille. È un vero piacere. A dire la verità, preferisco che tutti questi arredi servano a qualcosa, invece di lasciarli nella vecchia casa a prendere la polvere. È come dare loro una seconda vita. Se stasera vuoi venire, ti faccio entrare. In fondo, senza di te, il luogo non sarebbe stato così splendido. Sì, ma gliel'hai già promesso. Oh, grazie. È molto carino da parte tua. Ma stasera vado al ristorante con mia madre. Allora, questa volta passo. Insomma, ecco, era solo per portarti questo. Vado, buona giornata. Grazie di nuovo, Nina. Ho verificato i dischi. Tutti funzionano alla perfezione. Il suono era sgranato, vecchiotto. Corrispondeva perfettamente al tema. Quando io ne è arrivato, ci siamo dati da fare fino all'ultimo minuto perché tutto fosse pronto. È davvero bello che tu abbia indossato una tenuta adatta. Questo vestito ti sta d'incanto. Potresti perfino metterle per il tuo matrimonio. Ti sarà costata una fortuna. Per fortuna conosco persone che, per il loro lavoro, hanno questo tipo di abiti a portata di mano. La signorina ha dei contatti. Ti sei impegnata al cento per cento, vedo. Già. Nonostante tutto, comincio a sentirmi un po' ridicola, sapendo che sarò la sola vestita così. Ma vettungola, sei ridicola di base. Quindi tanto male. Ma no, al contrario. Dato che sei tu che accogli le persone, così le immergi direttamente l'atmosfera dell'epoca. È perfetto. Beh, bene, ci siamo. Tra poco arriveranno i primi invitati. Ho messo la musica e mi sono diretta all'ingresso. Ho messo la musica e mi sono diretta all'ingresso.